bella a tutti ragazzi e buona domenica e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di notizie per quello che riguarda il futuro di fortnite e tutti gli aggiornamenti che hanno intenzione di fare parleremo di qualche update per quanto riguarda le macchine ma ci sono anche delle immagini scoperte ieri che hanno inserito nella patch 13.20 e che fanno dei richiami molto interessanti ovviamente tutti gli altri dettagli nel video prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente a parlare nel primo argomento di oggi e si parla del summer splash ragazzi l'immagine la conoscete tutti è quella della ltm oro massiccio che nel pomeriggio di ieri è stata convertita da coppie a squad la domanda che ci facciamo è quante sono le ltm che arriveranno in questo periodo di summer splash che dovrebbe essere fino al 12 13 luglio beh ragazzi sono davvero tantissime abbiamo avuto la one shots in duo che è finita la solid gold che è la seconda che stiamo facendo stiamo nella parte delle squad avremo la fog of war in solo quindi quella nella nebbia avremo l'alto esplosivi che è da sfruttare per le eliminazioni con l'rpg lì ragazzi mi raccomando avremo le close encounters in duo e in squad avremo lo sniper shootout anche qua in solo e in duo abbiamo le unvolted duo e squad e per terminare la blitz in solo quindi un sacco di modalità per poter variare un pochettino il gameplay se non volete farvi le arene oppure le partite in singolo 2 o squad tanta tanta roba buon divertimento sfruttatele per fare le schede punti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi è una piccola notizia su capitan america ragazzi lo abbiamo visto chi l'ha scioppato chi non l'ha scioppato non ha proprio riscosso un successo esagerato come i suoi predecessori sia della serie avengers che proprio dei supereroi in generale ma c'è una curiosità davvero interessante per quanto riguarda un possibile deltaplano che è stato in qualche modo spoilerazzato barra ho sbagliato a metterlo barra lo voglio far vedere ma non vi dico come che è questo ragazzi al cambio shop il primo giorno di capitano america è apparso nello shop questo glider che però non era possibile acquistare come vedete il prezzo era di un vbux ma in realtà non lo faceva prendere è una cosa che è relativa probabilmente a capitano america e la domanda è quando arriverà perché come vedete ha anche uno stile quindi c'è chi in realtà ha detto non è che potrebbe essere invece un glider dedicato al pack quello che sta per arrivare quello dove c'è us la gente del caos e il jolly sia nella variante spettri che nella variante ombre non lo sappiamo ma quello che è quasi certo e che potrebbe essere un oggetto da regalare e non da shoppare non lo sappiamo ovviamente io ve lo faccio vedere staremo ovviamente aggiornati su quanto accadrà e andiamo a parlare del prossimo argomento di oggi perché ho fatto io questo collage delle macchine l'ho fatto io ma che meraviglia i veicoli ragazzi io sono davvero in super hype per l'arrivo dei veicoli in game non so se voi anche avete la mio stesso desiderio di provarli perché sono d'accordo che sono d'accordo con chi sono sicuro che rivoluzioneranno molto il gameplay anche perché saranno molto di più che dei semplici veicoli da guidare e arrivano appunto degli aggiornamenti ogni volta che ce n'è qualcuno io ve lo dico abbiamo dei nomi di auto che potranno spawnare e sembrerebbe potranno essere guidate la basic car il basic track il big rig la police car che vi ricordo in questo momento non sono presenti le macchine della polizia in gioco il taxi cab e la sports car quattro di queste sono quelle dei poster le altre due sarebbe veramente tanta roba tra l'altro vi avevo anche detto che era stato trovato un muletto che sembrava potesse avere un'interazione quindi non è detto ma forse si potranno guidare anche quelli o magari in futuro gli aggiornamenti sono sotto perché abbiamo delle nuove informazioni gas pump us vuol dire flessibilità della pompa di benzina non so perché l'abbiano inserito max range 350 visual length 192 stiffness 10 boh se qualcuno ha qualche idea ragazzi la scriva qua sotto nei commenti questo però ci fa capire che stanno ancora ultimando dei dettagli prima di rilasciare i veicoli che a parer mio arriveranno con la patch 13.30 secondo me quindi quando il summer splash sarà finito e tutto il team di ep games sarà di nuovo in azienda e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché queste sono delle immagini davvero molto molto interessanti che sono state aggiunte nella patch 13.20 ma sono state scoperte solamente poche ore fa hanno aggiornato delle immagini dedicate alla location della casa dei cattivi del precedente capitolo vi ricordate dove siamo qua qua praticamente siamo nella base quella della montagna eravamo in fondo dove c'era me non mi ricordo il nome quelle cinque villette a schiera no ve le ricordate con la montagna questi aggiornamenti sono davvero interessanti perché potrebbe essere e non sarebbe sbagliato tra l'altro o comunque particolare che ci si riallacciasse al discorso dei visitatori quindi i visitors che in realtà ne abbiamo conosciuti solo quattro se non ricordo male ma sappiamo sono sette si dice che mida sia uno di quelli si pensa che la gente del caos sia uno di quelli ma in realtà non abbiamo degli aggiornamenti e come ci annuncia appunto questo tweet ci dice alcune foto sono state riaggiunte nell'ultimo update e si chiamano atena poi layer 001 umap perché aggiornarle non lo sappiamo io ve lo dico magari siamo già in anticipo con quello che potrebbe accadere nel futuro di questa season andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi l'ultimo argomento di oggi perché ci sono delle immagini ad alta definizione della skin madcap il cappello matto cappellaio matto chiamatelo un po come volete la skin del fungo insomma come la chiamiamo tutti vi ricordo che sarà in versione epica 1500 v bucks due varianti quella normale e quella brillante e avrà un set dedicato composto dal bello bag che ovviamente verrà venduto con la skin nello shop anche questo con due stili brillante e non brillante e chiude il crescent shroom quindi il piccone dedicato che sinceramente me lo aspettavo un po più carino se proprio devo dire la mia la cosa interessante della skin madcap è il piccolo funghetto che abbiamo scoperto oramai già nel precedente nella precedente season di fortnite tra l'altro poi è stato aggiornato anche questo funghetto e abbiamo scoperto che quando verrà inserito in mappa sarà interattivo e ti seguirà in realtà alcuni lo hanno già trovato ma è sott'acqua quindi non ci si può più interagire ed è nella zona dell'ex foresta frignante vicino a quella enorme torretta che possiamo vedere vicino al pozzo traballante secondo me se dovessero cominciare a metterlo lo faranno quando si riabbasserà almeno di uno il livello dell'acqua quindi entreremo nella nella numero 7 di di livello dell'acqua vi ricordo che sono 12 se non ricordo male adesso mi state un pochettino facendo confondere quindi c'è tanta attesa anche per questa skin non non vediamo l'ora ovviamente che arrivi per capire anche se poi quel funghetto farà qualcosa oppure no insomma ragazzi io anche per questa domenica vi ho detto tutte le news vi ricordo che non mi troverete il live oggi su twitch perché mi riposo la domenica quindi io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e noi ci rivediamo lunedì mattina alle 8 ciao e per tutti quelli che sono rimasti dopo l'altro lo sanno che devo arrivare a 10 03 arrivo a 10 03 almeno non c'è lo schermo nero io lo so ragazzi chiedo scusa per l'ignoranza però piuttosto che uno schermo nero canto e faccio un po di beat box ciao